Oggi fare il corridore certamente è più difficile di prima, perché non basta essere forti, bisogna anche saper correre, perché se uno sbaglia non vince. Fino a pochi anni fa, quindi fino a quando avevo 17-18 anni, che era proprio un gioco totale per lui, quindi mi diceva, mi sgridava sempre perché mi allenavo troppo, se un giorno magari devo andare in bici mi diceva vieni in campagna con me che oggi ti fa meglio, invece da quando praticamente sono passato l'ender 23 diciamo che mi sgrida spesso perché non rispecchio totalmente il suo concetto di ciclista, cioè una persona quasi un monaco di clausura, quindi totalmente impegnato e focalizzato sulla bici. Forse i giovani oggi sono un po' troppo viziati, hanno troppe altre attenzioni che per fare il ciclista non servono, anzi bisognerebbe cancellare tutto e pensare solo a quello. Lui ha sempre avuto un'altra concezione che però secondo me va un po' rivalutata, nel senso che sì, è giusto impegnarsi e non lasciare nulla al caso, però in certe cose forse esagerava quasi. Non ha la cattiveria che avevo io in corso, bisogna che si faccia le ossa certamente, adesso quest'anno sarà l'anno decisivo per lui, per capire se sarà il suo mestiere correre o se è meglio che smetta e continui con la scuola, perché lui ha fatto la scuola agraria e poi c'è bisogno anche qua nel campo di braccia, adesso vedremo quello che succederà.